Ed eccoci qui ragazzi, buonasera a tutti E benvenuti nel mio canale Io mi chiamo Michele e questo è il canale La Meccanica Questa sera, come avete visto appunto, ci sarà questa nuova live Parto subito, voglio partire subito con il ringraziare intanto Per la scorsa settimana appunto perché c'è stata una live Jean Dalvy della Veneto Auto Extreme Con lui abbiamo parlato appunto della sua azienda E abbiamo parlato dei suoi prodotti e della carrozzeria Diciamo a 365 gradi A 360 gradi, scusa Scusate Detto questo, stasera abbiamo qui appunto C'è stato dei vari messaggi sulle nostre varie community Sia la mia che la sua E appunto questa sera avremo come ospite Vincenzo, il piccolo meccanico Prima di lanciarlo, prima di fare il collegamento con lui Volevo ringraziarvi e dirvi di iscrivervi al canale Sia il mio che anche quello di Vincenzo E attivare la campanellina Così potete rimanere sempre aggiornati Su tutti i prossimi video E eventualmente anche nuove live E questo nuovo esperimento diciamo Bene, adesso possiamo iniziare E facciamo partire il collegamento Eccolo qui Ci sei Vincenzo? Ci sono sempre Buonasera a tutti Ciao ragazzi, buonasera Guarda, adesso ho aperto un attimo i messaggi Non so se tu non mi dici che non li vedi I giusti i messaggi Te li farò vedere Allora, vediamo un attimino Sì, infatti perché non vedo Di Saverio Ciao Saverio Ciao Saverio Vediamo subito, passiamo avanti a Davide Ciao Davide Vediamo poi Francesco Ciao Ciao Francesco Tudor Ciao Tudor Vediamo Luca Facciamo questa piccola carrellata intanto Poi dopo iniziamo con la vera e propria live Sì, poi c'è Tudor ancora grandissimo Luca E anche Domenico Ecco qui Perfetto Bene Ho fatto una piccola carrellata perché devo ancora un po' imparare a utilizzare questo Questo Streamyard Ascolta Quando abbiamo fatto una live con Gianvini Come si chiama lui là La live scorsa che io ho partecipato Io vedevo Qui sulla destra Tutti quelli che scrivevano Ah ok Io non vedo nessuno qua sulla destra Eh oddio Strano perché io adesso li vedo Eventualmente io te li passo mano a mano Mano a mano te li passo così puoi vedere Guarda è arrivato appena adesso anche il messaggio di Savio Ciao Savio Ciao Savio Ok per il momento Poi io ti aggiorno Non appena vedo Adesso si aggiorno Aspetta Anche Antonio Ecco qui Non appena si aggiorno Piano piano Poi te li propongo Va bene? Ok ok Ah no Ok ok Lo sai cosa ho fatto? Adesso sì Perché prima c'era scritto C'è il chat privato Poi i commenti Ah ok Ok Sì su comment dovesti trovarli Perfetto Adesso sì Ok Allora Ci siamo Quindi Come Non guardarli così Vincenzo Per chi non lo sapesse Comunque noi Bene o male un pochino Ci conosciamo Ovviamente non di persona Non ci conosciamo di persona Però Ci sentiamo magari per messaggio O magari così come stai Questo è il problema Tutto Tutto così qui E quindi c'è un bel rapporto Diciamo Allora io Avevo preparato appunto Queste domande Avevo preparato Delle mie domande E poi Delle domande Che avevo Ricavato Dai vari video Che avevo visto Nel tuo canale Quelle diciamo Che venivano Più Che ti Con cui ti tartassavano Di più Tra virgolette E mi ho prese Diciamo Un 5-6 Se vuoi Possiamo già partire Quando tu sei pronto Alla cottura Partiamo Io Sono nato pronto Quindi Ok dai Allora Aspetta che giro il foglio Che le avevo segnate Innanzitutto La prima domanda Che esce fuori Su Sui tanti video Tuoi È Quanti anni hai Quello è facile È facile Anche se Ogni tanto Chiedo a mia moglie Dico Scusa ma quest'anno Faccio 46 O 47 Comunque Sono 46 Bene Bene Così Mettiamo le cose in chiaro Poi Una seconda Ti faccio Le tue origini Di dove sei originario Ho visto che anche questa Casca spesso Nei tuoi commenti Sì Sì Perché ci sono i molti Che mi danno Del pugliese Calabrese E invece sono di Salerno Quindi sono un campano Ah ok Ok Poi vediamo Partiamo Andiamo sulla terza domanda Allora Hai fatto Una scuola specifica Per imparare A fare il meccanico Com'è nata Assolutamente no Allora Calcola che io Quando ho iniziato A fare Il meccanico Ero giù In meridione Quindi Avevo Praticamente Appena lasciato La terza media Sì Pensa Che noi A momento Si andava al mare Anche d'inverno Quindi non vedevo L'ora che Che finiva Alla scuola Per andare al mare Allora mio padre Mi disse Dove vai? E disse Sto andando al mare Ciò alle mare Vieni qua Preparati Vestiti Vieni con me E mi portò in officina Da un loro amico E così Ho iniziato La mia gavetta Quindi Ho lasciato la scuola Subito Subito Lavorare Subito Bene Dico gavetta Gavetta Perché Imparare il meccanico Oggi Non è uguale All'altra volta Cioè Ai tempi di una volta Nel senso che Sono cresciuti A schiaffi Cioè praticamente Peggio del militare Io che ho fatto il militare È stato proprio È stato proprio Non hai confronto Per niente Guarda Il militare A confronto Guarda È stato proprio Una sciocchezza Come dico sempre io È proprio È una passeggiata Invece Dove ho iniziato A fare il meccanico Io Guarda Non potevi fumare Per fortuna Io non fumavo Però Non potevo avere La cicla Sì in bocca Non potevo portarmi Anelli Né bracciali Né collane Quando c'era lui Si stava in silenzio Senza musica Niente Dovevamo solo lavorare Mamma mia Penso che Penso che una volta Mi regalarono Un braccialettino Allora Io sapevo Che non lo potevo portare Però Era più forte di me Lora mi misi Sto braccialettino E iniziò A lavorare No Il giorno stesso Cioè il primo giorno Che io Ho messo Sto braccialettino Ero con le mani In un motore Mi si impiglia Si spezza E cade giù Sotto la macchina Per terra Nella segatura Allora Cosa ho fatto io Ho cercato di ravanare Con le mani Ma non l'ho trovata Allora cosa ho fatto Ho preso la paletta Per andare a buttarlo Però Invece di andare Diciamo Nel bidone Dentro l'officina Mi sono No aspetta Scusa Ho preso il bidone E preso la paletta Con la segatura Dentro E volevo andare A buttarlo Dentro al bidone Dell'officina Però Il bidone Era un po' Nascosto Io cosa volevo fare Volevo Ancora ravanare Dentro Vedere se trovavo Sto bracciale Invece Il mio datore Di lavoro Che lui aveva visto Tutta la scena Dall'inizio Quindi mi guardava In silenzio Quando ha visto Che io avevo La paletta in mano Con la segatura Mi ha detto Dove vai? Io ho detto Niente Sto andato a buttare Sì Dice Tu lo vai a buttare Ma non qua Nel bidone Fuori dalla strada Quindi L'aveva vista L'aveva vista Quindi Mi ha aspettato E mi guardava Da lontano Mi ha fatto buttare La segatura Con il bracciale Dentro al bidone Proprio della strada Quindi Perso E quando sono tornato indietro Mi ha detto Cosa ti ho detto? Non si può portare Né bracciali Né anelli Né orologi Niente E quindi Perse il bracciale E poi schiaffi Eh Ma Sì Ma Sì Sì Ma Tipo alla cannabaciuolo Oppure Sì sì Brava Brava Proprio così Ma ovviamente Lui lo faceva Perché giustamente Ti insegnavi Capito Quando sbagliavi E poi Ti faceva fare Delle cose Che lui Non ti aveva neanche Fatto vedere Cioè Fai questo Cioè dovevi andare alla cecca Un po' Tra virgolette Dovevi improvvisare Penso che Penso che Un giorno Mi disse Prendi quel 127 Erano un Fiat 127 Vi devi registrare le punterie Io l'avevo solo visto fare Ma non lo sapevo fare Allora Mi avvicinai a sta macchina E incominciai a smontare Tutto quanto E vicino a me C'era Il classico Omarello Quello che sta sempre In officina Ma però Lui era molto bravo E mi disse Lui mi guardò Negli occhi E capì Tutto Mi disse Lui Lui Perché lo chiamavano Lorenzo Il pazzo Lo chiamavano Perché lo conoscevano tutti E disse Il pazzo ti ha mandato Qui a registrare le punterie E gli ho detto Sì Però tu non le sai fare E gli ho detto No Allora gli disse Non c'è problema E allora lui Questa persona qua Mi insegnò A fare Le punterie Registrate Belle 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 esperienze Mamma mia Allora poi Gli hanno fatti Di danni Un po' tutti Dai però Sì Ovviamente Sì Sì Ma quello È una cosa Che comunque Secondo me Poi Tu sai meglio di me È una cosa Che poi Può essere normale Insomma Può capitare Insomma Ma sì Come si dice La giusta capita Non siamo robot Però No Come si dice Sbagliando si impara Eh sì È vero Allora Adesso Vado avanti Con le altre Due o tre domande Che ti fanno sempre I tuoi iscritti Allora Questa ha già risposto Vediamo Aspetta Ah no Questa I primi lavori Che hai fatto Quali sono stati? Beh Uno Mi dicevi appunto Il meccanico Giusto? Prima Allora Il meccanico Non era proprio Nei miei pensieri Io facevo tutt'altro Sì Io andavo a scuola Facevo il barista Quindi portavo Lavoravo a bar Portavo il caffè in giro E poi dopo Ho fatto anche il pizzaiolo E basta Però Il meccanico Non era nella mia testa Non so Forse Nella testa Di mio padre Però Ah Ha detto Magari Ha voluto Spingerti Per questa strada Ma tuo padre Magari era appassionato Magari di motori Era appassionato Sì Sì Che lui è appassionato Di motori Sì Perché Lui segue Molto il caccio Quindi tra La schedina Del totocalcio Se la faceva Poi lì Non se la perderà mai È tra La formula 1 Che è tutt'ora È così Quindi diciamo Posso pensare Che lo era Allora non mi ricordo Però vedo adesso Che lui è appassionato Quindi mi sa Che anche prima Era così Quindi Direi sì Ho capito Vediamo poi Un'altra domanda Allora Vediamo Beh Questa Te l'ho Allora Aspetta Questa Scusami Come mai Hai deciso Ecco Questa sì Come mai Hai deciso Di lasciare La tua città Per trasferirti A Bologna Praticamente Ho visto che Ricade spesso Questa domanda Nel canale Eh sì Perché Molti mi dicono Vince Ma tu sei Sanno che sono Di Salerno Ti voglio portare La macchina Dove sei E dico Sto a Bologna Allora Dicono Ma come Scusi Perché te ne sei andato Fanno queste domande Quindi effettivamente Cioè Praticamente Cosa è successo È successo Che da quel posto Di lavoro Dove lavoravo Me ne andai In un'altra officina A lavorare Perché Quella Questa officina qua Praticamente Praticamente Faceva anche Macchine Da corsa Quindi Io Mi disse Perché quell'officina Appunto Faceva le macchine Da corsa Mi innamorai Di sta cosa qua Quindi Lasciai Quello Posto Vecchio Diciamo Per andare In questo nuovo E In questo posto nuovo Durato Pensate I tre Quattro anni Una cosa del genere Successe Che Ci dovettimo Trasferire Quindi Diciamo Dalla zona Diciamo Dalla città Ci trasferimmo Nella zona industriale Perché Era così E quindi Ebbe Un calo Di clientela Allora Lui mi disse Guarda Non c'è più lavoro Stai a casa Se si sveglia il lavoro Ti richiamo E Invece Mia mamma Mi disse Ma prova a sentire Tuo fratello A Polonia Praticamente Io ho Un fratello Più grande Di lei Che lui E' venuto qui Quando aveva 17-18 anni Praticamente E allora Così Facevamo E gli dissi Ma non è che Puoi inserire Tuo fratello A lavorare lì Da qualche parte In officina E mio fratello E mio fratello Parlò con Un suo Amico Che conosce Da Da quando Era venuto qua E questo ragazzo Qui Praticamente Lui è un appassionato Mercedes Quindi cosa fece Andò In questa Officina Dove lui Portava Riparare La macchina E gli disse Franco C'è un ragazzo Giù del meridione Che deve venire su Che facciamo E questo Franco disse Fallo salire Che lo sto aspettando E così Appena sono arrivato A Bologna Avevo già L'officina Che mi aspettavo Praticamente Era Un'officina Autorizzata Mercedes Ok Sì E qui ho fatto Penso Se ricordo bene Circa 3-4 anni Più o meno Poi dopo Da lì Andai a fare Dei corsi a Roma Corsi Alla Mercedes Autorizzata Ok Sì Lì Sulla salaria Ok E lì Conobbe un ragazzo Al corso Conobbe un ragazzo Di Bologna Che poi è diventato Un mio amico E lui Praticamente Lavorava Nell'altra Mercespro Alla filiale Di Bologna Ok Allora Mi piace Questa cosa Della filiale Di Bologna E quindi Cosa feci Lasciai Questa autorizzata Per andare In quest'altra Filiale E quindi Ho fatto Mercedes Mercedes Ho soltanto Cambiato Praticamente In totale Ho fatto 7-8 anni Di Mercedes Non di più Ok Dopodiché Dal Mercedes Ovviamente Adesso sei passato All'officina Dove sei ora Esatto Dove La maggior parte Delle persone Ti conosce Come il piccolo Meccanico Giusto Se non sbaglio Esatto 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 Io posso dirti Io ti ho conosciuto Ovviamente YouTube Quando avevi più o meno 6-7 mila iscritti Se non sbaglio Una cosa del genere 7-8 mila Ecco Ok E da lì Veramente Mi è piaciuto Il tuo modo Il tuo approccio Diretto Molto Easy In cui Spiegavi Tutte le cose E soprattutto Anche La cosa bella È Vederti Che gestivi Un po' tutto Cioè Facevi Dall'officina Ovviamente Ma anche Gestivi Anche La parte Con il cliente Cioè Un po' tutto A 360 gradi Questo È bello E non è Non è facile Fare una cosa Come fai tu Adesso È Molto difficile Eh sì Perché ogni tanto Ti chiamo E che aspetta Perché c'è un cliente Aspetta Ti chiamo dopo E allora Vai Quindi sei sempre Avanti e indietro E sei bravissimo Perché Dico Da Sei un YouTuber Hai I tuoi Iscritti Sono tantissimi Però io Sto vedendo Che mi sto approcciando Anche a questo mondo E ti dico Io non so Come fai Sei bravissimo Ad avere una costanza Nei video A caricare A fare Veramente È una cosa Ammirevole Perché Non è semplice Per chi magari Non è dietro E guarda solo E commenta Ecco Già Se voglio un attimo Dico una cosa Per chi commenta Senza poi neanche sapere Deve sapere Cosa c'è dietro Tutto quel lavoro Prima Prima di fare Un commento Magari negativo Perché Non è facile Non è assolutamente facile Non so se Beh sicuramente Perché Non è facile Perché Io Ormai Chi che mi conosce Lo vede Sono sempre Solo in officina Dalla mattina Alla sera Solo E quindi Mi devo fare Le macchine Che arrivano Devo Andare a provare Le macchine Devo Guardare Quei clienti In più Quando Fabio Mi telefona 4.000 volte Al giorno Quindi Può immaginare Mentre io Sto facendo Una registrazione Quante volte Devo staccare E quante volte Mi dimentico Magari Che ho fatto Che non ho fatto Qualcosa Oppure Peggio ancora Quando Quando per esempio Sono sicuro Di aver registrato Solo che Me ne accorgo Quando poi La sera Arrivo a casa Mi siedo qua Dove sto seduto E dico Ma qui ci manca un pezzo Ma dove andiamo E la Ha voglia Allora Se sono fortunato Che la macchina È ancora in officina Allora Non ti nasconde Che molte volte Sono tornato in officina La mattina Ho ripreso in mano Quella macchina E qualche volta Ho anche Rismontato il pezzo Per far vedere Cioè Per riprendere Quel pezzo Mancante Per ricostruire Per ricostruire Quella parte Che ti era mancata Posso immaginare Ti comprendo Benissimo Alla sera Quindi la pausa La pausa pranzo Molte volte Spesso Sono lì che Gironzano in officina Per recuperare il tempo perso La sera Anziché di andare via Mi fermo un'oretta Per Appunto Per Per riprendere ancora Quindi Capita sempre Quasi tutti i giorni Sì ma guarda Io vedevo anche In alcuni video Mettevi proprio Che avevi La tua razione Diciamo Che mangiavi Mentre registravi Perché non avevi Tempo di fare Eh sì È così È così E pensa che In tanti Mi vengano a trovare Anche in quell'ora lì Nella mia ora di pausa Mamma mia Infatti l'altro giorno Ho fatto Ho fatto un video Su una Ho cambiato Un giunto Moscenetico Di una Dacia Duster Di mio collega Soltanto Che mi è venuto a trovare Il mio amico Sergio È un ragazzo Di Ferrara E lui è venuto Nella pausa Io praticamente Quel video Lo dovevo finire Nella pausa Sì Lo dovevo finire Perché Gli dovevo dare la macchina A mio collega Invece A mio collega Ha detto Guarda La macchina tutta smontata Non te la do Quindi L'ho dovuto finire la sera Prima di andare via E poi la mattina Gli ho dato la macchina Però L'ho potuto fare Quindi A Sergio L'ho fatto venire dentro Perché Tra l'altro Ci dovevamo dire Certe cose Quindi L'ho accolto volentieri Anche perché Lui è arrivato A fare la posta Quindi Potevo benissimo Dirgli Guarda Non venite Perché non ci sono Inventare una palla E invece Eh vabbè Ci sta Dai Sì dai Poi Allora Vediamo un attimino Allora Di queste domande Anzi La sesta Era appunto Quella che forse Hai già risposto prima C'è stato qualcuno Che ti ha insegnato Se senti Questa era la domanda L'ultima domanda Quelle Diciamo Tra virgolette Che ho preso Nel tuo canale Però mi dicevi appunto Non so se c'è Nessun Che Altre persone Che mi hanno insegnato Sì Allora Allora Proprio in quel posto lì Dove ho lavorato La prima volta Dove lì Si stava Come Come i militari Lì c'era un ragazzo Lì c'era un ragazzo Più grande di me Pensa che lui Era andato a lavorare In quell'officina Che aveva dieci anni Cioè lo conosce Lui Lui stava sempre Riparamente Lui è cresciuto lì Cioè A lavorare nel senso Che lui a dieci anni Era già in officina Faceva Quindi è cresciuto lì E poi dopo Quando Era pronto Il titolare Giustamente L'ha assunto E lui Stava lì Quindi diciamo Era quello più anziano E per me Era un punto di riferimento Anche perché Lui È quello che Mi insegnava Era quello che Poi mi difendeva Ah ok Che prendeva le tue parti Quindi quando succedeva Qualche casino Qualche cosa Pensa che una volta Era una Fiat Non mi ricordo Che Fiat era Praticamente Quando apri il cofano Proprio sotto Dove c'è la zona Motore Tergicristalli C'era proprio Un vuoto Che faceva parte Proprio della vasca Diciamo Sotto i motorini Tergicristalli Non mi ricordo Non mi ricordo Che macchina era Se forse Non mi ricordo Comunque era una Fiat E lui mi disse Il capo Lui cosa fece Lui Mise la macchina sul ponte Scarica l'olio Poi dopo Chiuse E mi disse Con me Prendi l'olio E mettilo In quella macchina Cioè non è che mi disse C'è questa macchina qua Fai No Lui disse Mettili in quella macchina E c'erano tante macchine Io gli disse Ma dove Chi E lui disse Qua Qua Urlando E fece segno Lì dove c'è Questa vasca Sotto i deggicristalli Qua Qua Lì devi mettere Qua Io che ero ragazzini Presi queste lattine Da un litro E le mesi Tutte lì E infila E lì Mi arrivò Uno di quei schiaffi E c'era là Il ragazzo Che si chiamava Gigino Disse Ma tu Anziché di urlare Non gli sei Di rilincenzo Apri Le bottiglie Dell'olio E metti Nelle motor No Tu dici Prendi l'olio E mettilo là E lui così ha fatto L'ha preso l'olio E l'ha messo là Eh sì Tu lo difendi Sempre Tu lo difendi Povero sto ragazzo Che poi alla fine È morto Circa trent'anni Per un infarto Quindi Cavoli Mi spiace E lui è quello Che mi ha insegnato Proprio realmente Praticamente lui Mi diceva C'è quella macchina fuori Perché io Quando stavo lì Io lavoravo Sopra un marciapiede Cioè non è che Gli altri due Lavoravano sul ponti In mezzo alla strada Mi dicevano Alza quella macchina Devi scaricare l'olio E il filtro Quindi mi faceva Far tutto a me E poi dopo Dopo mi diceva Prima di abbassare la macchina Mi chiami E io vengo a controllare Il tappo Se l'hai stretto bene E io così facevo Soltanto che sta cosa qui Solo che sta cosa qui È andata avanti due volte La terza volta che gli ho detto Mi viene a controllare Il tappo Se è stretto È che adesso Ti vengo sempre a controllare L'hai stretto Va bene così Quindi C'è capito Per invogliarmi Per dirmi Sì ok L'hai fatto buono Un po' carota Dai Bastone di carota Esatto Eh sì Poi Oh Come dico sempre io C'è sempre da imparare E quella cosa Che io ho detto E dico tuttora E non mi stancho mai Di dirlo Che anche grazie A tutti quanti Quelli che mi seguono Io imparo Sai perché Guarda Ti faccio un esempio Lampante Ma magari qualcuno In tutti i giorni Ve lo scrive Vince Complimenti per questo video Mi sei stato utile Ok E poi aggiunge Mi fai vedere Come si smonta Questa cosa Magari io È una cosa Che non ho mai fatto Perché Perché non è mai capitata No La vado a fare E cosa ho fatto In quel momento Ho imparato Un'altra cosa No Quindi E quindi Immagina Per quanti sono loro E per tutte le richieste Che mi fanno Io imparo Sempre di più Eh sì Poi Poi guarda Posso Se posso Interromperti un attimo Quello che ho notato Anch'io È che soprattutto Anche nel tuo canale C'è tanta Veramente Tanta gente Che Vai vai Mi metto Aspetto Vai vai tranquillo Intanto io vado Vado un attimo su Con No Tranquilo No Tranquilo No C'è veramente Molta gente Che ne sa tanto Nel senso che Veramente Molto brava Devo dire Anche Di quelle risposte O domande Particolari Si vede Da tecnico Da persona Che comunque Ne sa Ecco Quello Lo si vede Lo si vede Nel tuo canale Sì Guarda Vediamo un attimo Vediamo un attimo Gli infatti messaggi Che sono arrivati Così Vediamo Sono rimasti Qui Allora Antonio Un saluto Luca Ciao Vediamo Marco Ciao a tutti Ciao Marco Totò Ecco qua Dice Cosa dice Salerlo Poi Totò Sempre Luca Un po' Lentone Poi Clavo No ma poi ne ha rivolto a te Lentone Non a me Eh questo A me Pazienza Dai Domenico Ah guarda qua Domenico Mi chiede Perché la scelta Di piccolo Nel nome Del canale Perché io sono piccolo Di statura È come me Eccovi qua E poi Sinceramente Perché Diciamo che Allora Che questo canale È nato Per aiutare gli altri È la verità Però Non contavo Di fare Tante cose Perché Perché il posto Dove lavoro Non me lo permette Tutto qua Quindi Era già Nell'area Di fare Di fare Dei video Sua meccanica Ma però Non A 360 gradi Ma quasi Ho capito Ripeto Perché Perché l'azienda Molti di loro Lo sanno Praticamente L'azienda Dove lavoro io È specializzata Nello sterzo E basta Cioè quindi Per quanto riguarda Lo sterzo Tutti i tipi di vettura Camion Pullman Facciamo tutto Quindi Qualsiasi che arriva Io lo faccio Allora Sinceramente Pensavo Che questo canale Qui Non veniva fuori Tante cose Perciò L'ho fatto Piccolo Meccanico Perché Non pensavo Di far vedere Tante cose Poi alla fine Torna il discorso Che molti mi dicono Vincei Fammi vedere questi Vincei Fammi vedere quelle Quindi alla fine Diciamo che Quando riesco Faccio Mi allargo Ecco Faccio vedere molte cose Ovviamente Se capitano Ma per esempio Sono Penso Più di Più di un anno Due Forse Che ogni tanto Mi arriva Quella domanda La fatidica domanda Che vogliono Vedere Una distribuzione Per la 1003 Multijet Oh Cioè Andiamo su youtube E' pieno Chiunque ha fatto La catena Di distribuzione Però giustamente Capisco che Loro vogliono Vederla Fare da me E io Ovviamente Dico ragazzi Io la faccio Con tutto il cuore Anche perché Mi manca Nel canale Questa macchina qua Però se non arriva Come faccio Devo aspettare Che arriva Ma sai perché Perché magari Il Multijet 2003 E' un motore Che comunque Non è stato Tante macchine Esatto Esatto Allora Se arriva La facciamo Allora Vediamo un attimino Allora Andiamo sotto Qua Totò Vincenzo Dove hai lavorato Giù Qua mi sembra Hai già risposto Giusto Lui Mi chiede Dove Ma dove Ok Allora Nel primo posto Dove ho lavorato Si chiamava Spero che non è morto Lui Si chiamava Lorenzo Di Meola Che aveva Un'officina Che c'è tuttora In questa officina In zona Pastena E' una locale C'è un posto proprio Pastena E lì C'è questa officina Perché poi alla fine Questa officina L'ha rilevato Un mio E suo collega Di lavoro Quindi L'officina Dove era Lì è E poi dopo Da lì Sono passato Da un'altra officina Quelle che facevano Le macchine da corsa Che le fa Tuttora Ed è uno dei più bravi A Salerno Perché fanno anche Preparazione C'hanno banchi prova Quindi fanno di tutto Che si chiama Officina Morra Bruno Morra E lì sta la zona Zona Pagliarone Questo Questa officina Ha un capannone Che sono Molto bravi Ok Andiamo Andiamo giù Con Le domande Ah ecco Un'altra Ecco questa Hai mai pensato Di aprirti Un'officina Tutta tua Sì L'ho pensato Per ben due volte Con due colleghi Diversi Praticamente Con il primo E' andata male Perché Questo qui Era Più grande Di me Ed era Una persona Un po' Strana Praticamente Nel bel mezzo Che dovevamo Solo partire Quindi per far Le carte E tutto quanto Avevamo visto Un'officina Autorizzata Volkswagen Questo qua Si è tirato Indietro Perché Ci volevano Molti soldi Come inizio Prova perché Dovevamo Mantenere Il marchio E tra l'altro Lui Era presto Alla pensione Quindi si è tirato Indietro E invece Dopo ci ho riprovato Con un altro ragazzo Un altro collega Ex collega Lui si è tirato Indietro Non mi ricordo Perché il motivo Perché non trovavamo I post Ah ecco Non trovavamo Le officine adatte Per noi Dopo alla fine Invece lui L'ha trovato Con un suo amico Un suo amico Che questo amico Aveva già L'officina Perché usciva Suo padre E quindi Lui È subentrato Ah ho capito Quindi per lui Per lui è stato più facile E io sono rimasto Sono rimasto fuori Vabbè dai Mai dire mai Mai dire mai No No ma non l'apro Ma non l'apro Ma non c'è dubbio Non c'è dubbio Vabbè Allora Poi abbiamo Andiamo avanti Vediamo Aspetta Luca Luca I tempi Dell'apprendistato Di una volta Dice Esatto Sempre poi Luca Allora Li vedi anche tu Sì Messaggi Sì Sì Francesco Domanda Cosa ne pensi Del corso Di meccatronico Che propone oggi Radio Elettro Non la conosco Neanch'io Però Però Allora Un corso di meccatronico A me piacerebbe Non ho il tempo Ma io Veramente Inizierei tutto da capo Proprio per un rinfrescamento Nella Nella testa Io inizierei proprio da zero Cioè Tutti i corsi Che ci sarebbero da fare Proprio da A alla Z Io me li farei tutti Perché Sai perché Perché Di sicuro C'è qualcosa ancora da imparare E poi dopo Conoscerai Tante altre persone Quindi Io li farei volentieri Bene Non direi niente io di no Sinceramente È sempre È sempre un bagaglio in più Da poter avere Vuol dire tanto Certo Certo perché Nessuno può dire Che è un meccanico finito Oppure Un elettroauto finito Un carrozzale finito Nessuno è finito C'è sempre È sempre da imparare È vero È vero Infatti Non a caso Non a caso Quando mi chiedono Vincenzo Ho la macchina che Quando Freno Fa questa cosa A parte che Io non sono un leggente Quindi non posso Sapere Però A me Non è che mi fanno ridere Quelle persone Che dicono Ah Devi guardare quella cosa là Ah potrebbe essere Questa cosa qua Ah è quella cosa Cioè Fanno le diagnosi Senza vedere le macchine Io magari Posso anche Capire Cosa potrebbe essere Ma io sto zitto Sabe che Perché Per un problema Ci possono essere Ma sai quanti casi Cioè La cosa che causa Quella cosa lì Perché Proprio quella lì Allora io delle due Preferisco stare zitto Hai capito Ti capisco Eh sì Perché tu a quello Gli dici Ah quel problema lì È il corpo Fa fallata No Non se non so Diciamo da una Poi magari Quello lì Va dal meccanico E quello dice Ma quale corpo Fa fallata Chi è sto scemo Che te l'ha detto Quindi passo pure Per scemo Capito E allora Delle due Sto zitto È come il dottore È come quando vai dal dottore Dottore o male qui Eh Ho capito io Ma Bisogna fare gli esami Esatto Esatto Quindi Prima Diagnosi E partire Esatto Prima diagnosi Entra dentro Nell'officina La macchina La prima cosa È fare la diagnosi Vedere Inllo stato Di com'è La messa la macchina Poi oltre meccanicamente Va bene Ma Ma quello Secondo me Poi Tu sei molto meglio di me Insomma È la base Insomma Poi anche Comerci Insomma Hanno Questa Questo filone Diciamo Loro Quando tu porti la macchina dentro La prima cosa che fanno È Diagnosi Poi sicuramente Anche le altre case Ovviamente Sono tutte Sono tutte Sono tutte Allineate Allora Poi Vediamo un attimo Autocarrozzeria Dario Oh ciao 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 Non so se Lo conosci No Non credo Non so No No Praticamente È il capo Tra virgolette Di Domenico Ah Aris Non so se Conosci il suo canale Conosci il suo canale Non so No È un carrozziere È un carrozziere È un bellissimo canale Beh dopo Casomai Eventualmente Te lo farò presente Ok Te lo farò vedere Andiamo avanti Allora Ciao a tutti Un saluto Allora vediamo Andiamo giù Vediamo Francesco Grande sud Noi meridionali Siamo Resilienti Andiamo avanti Saverio Vincenzo Oltre a essere Il numero uno Di meccanico È anche Un grande Youtuber Beh è vero Eh Invece Saverio È una grande persona È veramente Ha un cuore d'oro Saverio Bene Poi vediamo Un attimino Beh io Guarda Mi fermo un secondo Con Le domande E voglio farti Queste domande Che Volevo farti appunto Io proprio E Allora La prima Era appunto Intanto Come ti è nata Aspetta Scusami Che ho messo Allora Aspetta Come è nato Il tuo canale E cosa ti ha spinto Ad aprire un canale Youtube Forse La video La seconda È Quando hai capito Che Youtube Per te Poteva essere Considerata Una cosa seria Quando Quando Sono arrivati Aspetta Fammi trovare La parola giusta Quando ho visto Che Praticamente Crescevano I miei fan I miei iscritti Gli iscritti Infatti Non mi veniva Quando ho visto Che gli iscritti Aumentavano E le domande Soprattutto Aumentavano Allora Ti sei reso conto Di dire Cavoli Sta facendo Questo giusto Sì Io all'inizio Pensavo Ovviamente E' il primo canale Non avevo Esperienze Quindi io pensavo Che aprire un canale Era Mettere la roba Sul Appunto Sul canale Su Youtube E la gente Vedeva Basta Cioè Nella mia testa C'era quello Poi quando ho Incominciato a vedere Che arrivavano Domande Domande Su domande Complimenti E nonna Quindi Perché Non la vi Ma ci stanno Ci stanno Ci stanno Dai Se sono Con senso Cioè Se hanno un senso È giusto Che la critica Ci deve essere Io Guarda Anche sul mio canale Sono contento Se mi devono Criticare Su una cosa Perché vuol dire Che magari Devo migliorarmi Sicuramente Però Se è una critica Fatta solo Per fare un danno Non ha senso Secondo me Non ha senso Infatti A me a volte Mi dicono Ma tu non accetti Le critiche Io le critiche Le accetto Però tu non devi offendere Esatto Perché io Non ho Non ho Cioè A me Ragazzi Veramente Mi arriva di ogni Io ogni giorno Quasi Cancello Una o due persone Perché sono proprio Scostumati Non so Non so Da dove arrivano E da che buchi Sono nati Non capisco Capito Sì 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 Cioè Cioè Gente che purtroppo Non ha niente di meglio Da fare nella vita Che andare a disturbare Le persone che lavorano Che fanno bene Purtroppo Vabbè Contasi loro Io cancello E li butto fuori Guardate Guardate Se dovesse succedere Anche a me Io l'ho detto Anche nella prima mia live Di presentazione Del canale Se non l'avete vista Non l'avete vedere Se vedo cose del genere Cose strane Che Io prendo E tolgo via Perché La cosa Deve essere una cosa pulita Una cosa per tutti La casa di tutti Quelli che hanno Questa passione Esatto Poi Allora Questa Ah Questa è Allora Questa è un'altra bella domanda Ho visto Che da poco Purtroppo Ti sei infortunato Ora ti sei Ripreso completamente Sì dai Dopo quello Ti vi hai fatto vedere Un po' prima Se possiamo farlo vedere Vuoi farlo vedere Allora Ero giù in garage Da stamattina Che sono in garage Che sto cercando Di mettere su un banco Da lavoro Quindi Tra saldatrice Flessibile E per chi lo chiama Il flex Praticamente Ho avuto La perlantidea Di togliere davanti La protezione E ho detto Mi devo ricordare Di Che non c'è Sta protezione Perché io ho il vizio Che quando taglio Metto il dito Contro la protezione Per spingere Il flessibile Ecco Quindi Potete immaginare Cosa è successo Mi sono tagliato Un dito Quindi Ecco lì Ah sì E adesso Questo Questo è quello Che ti ho schiacciato E adesso Da quest'altra mano È fresco fresco Si vede pure Anche che è bello fresco Sì Andiamo Un'altra domanda Che secondo me È interessante Questa E E lo dico Perché Anch'io Da appartenente Al tuo canale Voglio ringraziare Queste due Soprattutto Queste due persone Ma anche Soprattutto Chi ha contribuito Alla cosa Cioè Quale Aspetta Adesso arrivo Allora Volevo ringraziare Intanto Fabio Bianco E Pido Che hanno Avuto Una splendida idea Con Leggendo La mia domanda Quella di Accogliere Delle offerte Tra i tuoi iscritti Per farti Un regalo Ho visto La live Di quel giorno Infatti È così L'ho vista Ero contentissimo E ti ho visto Contentissimo E È stata Davvero Bellissima Ce ne vuoi parlare Ce ne vuoi parlare E Magari Così anche Chi Segue Il mio canale Può capire Cosa è successo Perché magari Chi È del mio canale Magari Non ti segue Non lo sa Praticamente È nata Tutta Da Fabio Lo Bianco Anche Sperta Lo saluto Che dopo Poi Praticamente È successo Che Appunto Stavo Sto cercando Di fare Dei lavori In garage Ma Siccome Che Per me Io non ho mai Tempo Perché Ho mille cose Da fare Avevo parlato Con Fabio Che Volevo Cambiare Il compressore No? Però Lui Mi ha anticipato Perché Un giorno Mi ha fatto vedere Nel suo garage Come Ha rinsonorizzato Il suo Compressore No? L'ha fatto Tutta una Bella cabina Chiusa Con le prese D'aria Dentro L'interno Ha fatto Bellissimo E io ho detto Oh ma guarda un po' Mi hai letto Nel pensiero Che voglio Cambiare Il compressore E lui fa Se vuoi Mi posso interessare Io gli ho detto Fai una cosa Viste che giù Nel meridione Costa tutto poco Prova a sentire Cosa costa E vedo Che lui fa Poi Lui mi fa Perché Dove Vendono Sti compressori Io li conosco Molto bene Mi ha detto Che addirittura Ci lavoravo Adesso non mi ricordo Bene la cosa Comunque Mi aveva fatto Pensare Cioè Credere Che La Avrebbe tirato fuori Un compressore A poco prezzo Qualcosa di gel Ma avrebbe fatto Un trattamento speciale Ecco E lui ha detto Fabio Tu vai A me serve Questo tipo di compressore Con queste caratteristiche Mi dici Se ce l'hanno Disponibile Tutto quanto Gli faccio Una Gli faccio Un pagamento Online Un bonifico Qualt'altro E Prendo il suo compressore E invece Non è stata così A un certo punto In officina Questo poi Passati Un mese e mezzo Due In officina Mi dicono Dall'ufficio Guarda che c'è Un cartone Con te Un collo Ah Dico Che sarebbe Dici C'è un pacco Per te Ma dico Ma io non ho ordinato Niente Comunque adesso arrivo Vado per vedere Questo pacco enorme Questo cartone Mi ricordo E lì Mi arriva La telefonata Di Fabio E mi fa Ascolta Vai su Collegati Sulla tua posta elettronica Devi stamparti Un foglio E lì Quando ho visto Il foglio Ho capito tutto Tutti Tutti I nomi Di tutti Quelli che Avevano aderito E quindi Lì veramente Mi scappava La lacrimuccia Perché ero molto Molto emozionato È stato bellissimo Ma guarda Io penso Che anche Tutti quelli Che hanno visto Quella live In quel momento L'erano emozionati Quanto te Perché Io ti dico Nella mia parte Insomma Ero emozionatissimo A vedere Proprio poi La scena Di tutto Lo scartamento Di un bambino Che dice Un bambino Un bambino Un bambino Hai detto bene Sì Bellissimo Bellissimo Sì Vediamo poi Un'altra L'ultima mia domanda Poi magari Andiamo avanti Con le domande Dei ragazzi Il supporto Della tua famiglia Immagino Si è stato Determinante Ho sentito Dico una cosa Dico una cosa Per un'altra Proprio perché Mentre io Faccio la registrazione C'è tutta una preparazione Dietro L'officina Le macchine Le telefonate E tutto quanto Dico E poi non è finita lì Perché quando poi Rientro a casa Mi incollo qui al computer E mi devo mettere A montare i video Perché Poi cosa faccio Preferisco fare Non so se un video L'ho girato oggi Preferisco Che la sera Lo faccio già Lo monto già Perché se no Eh perché Al momento Mi ricordo già tutto Poi mi sembra Già il giorno dopo Mi posso dimenticare Di un passaggio Di una cosa Perché a volte capita Che una registrazione Non è in fila A volte Un video davanti Dico Aspetta Poi faccio Passare prima quella Poi Però ho capito Se lo faccio Se lo fai Nella serata Ti ricordi Quindi di monti Mano a mano Ho capito Esatto Allora Sai puoi immaginare Che la sera Arrivo a casa Le bimbe Non mi vedono Tutti il giorno Mia moglie Mia moglie è uguale E quindi Ma non è solo quello Perché mentre sono qui Che faccio i video Sto sempre con il cellulare In mano A rispondere I messaggi I messaggi Di tutti quanti E penso Che mia figlia piccola Papà Stai sempre Con un cellulare In mano Eh sì Quindi Diciamo che Trascuro l'oro Un po' Anche se Molti mi hanno scritto La verità In quel live lì Ci sono stati molti Che mi hanno scritto Vincenzo La prima cosa È la famiglia Non trascurarla No beh Sì È vero E allora Qualche volta Non so cosa faccio Magari rientro Anzi Lo faccio spesso Ovviamente Quando rientro Da lavoro Diciamo Sto con l'oro Stiamo Normale Una serata normale Poi è arrivato Non so A quest'ora qui Verso le 10 Adesso Che loro magari Se ne vanno a letto Allora io tiro fuori Il computer E faccio quello che devo fare E se faccio Mezzanotte L'uno Le due A volte anche Le quattro del mattino Ho fatto A montare i video Eh sì Perché poi Se sono fortunato Che è un video Che Che Non so Dura 10 minuti Un quarto O venti minuti Ancora ancora Ma quando poi Mi ciuccio Quei Quei video Da un'ora Allora lei Eh sì È la Cioè Devi Non mi passa Tutto poi Perché Che magari Non c'è qualcosa Che Che magari Deve essere tagliato Quindi Ti tocca Ti tocca guardartelo tutto Eh non è Esatto Ma molti È quello Mi raggancia Quello che dicevano Prima Che molti Magari sai Guardano il video Bello Impacchettato E finito Però Tutto il sacrificio Tutto Quello che c'è dietro Eh Di tempo Non lo vedono Mi sembra tutto facile Perché sono 10 minuti O 20 minuti O magari un'ora Di video Nel tuo caso Però Sembra tutto facile Non è così Non è così Guarda Lo sto guardando Lo sto vedendo anch'io Che sto iniziando Diciamo tra virgolette Sto provando a iniziare Diciamo così E vedo che Per fare un video E metterlo Di una certa qualità Tra virgolette Diciamo Ecco Ci vuole il suo tempo Ci vuole Veramente il suo tempo Non è Non è facile Pensa che ho Quando proprio Non voglio far vedere Che faccio le cose a casa Me li faccio al lavoro Nella pausa Nella pausa E la sera Prima di andare via Al mio capo Gli dico Guarda che rimango dentro un'ora Lui dice Fai quello che vuoi Non mi interessa E allora Mi chiudo lì Perché Dove sto io In quel capannone lì Sto solo io Quindi c'ho Una bella saletta Con la sala d'attesa E lo spogliatore Quindi io mi metto lì Nella sala d'attesa Da solo E mi faccio un'ora di video Cioè A montare i video Mi divido un po' di qua Un po' di là Ho capito Beh comunque c'è da dire Anche questo Che Veramente anche Il tuo capo Comunque È una persona Che comunque Ti lascia Molto ampio A margine Di lavoro Nel senso di cose Ti lascia molto libero E È molto bella questa cosa Perché Comunque Tra virgolette Ne ha Da guadagnare lui Ne ha aiuto a guadagnare Anche tu Nel senso che Fate un bel gruppo Capisci Quello Quello che voglio dire Da un rapporto Di fiducia E Non si trova dappertutto Non si trova dappertutto No Pensa che io All'inizio Gliel'avevo dato Gliel'avevo tenuto Nascosto E Tanzi Per un bel po' Per un bel po' E Ti interrompo Su una cosa Guardi Su questa cosa Del tenere nascosto Perché È una cosa Che ho visto anch'io All'inizio Quando proprio Sei all'inizio Tutti magari dicono Sì ho aperto Un canale YouTube Però sai Ti guardano un po' strane Perché Dicono Ah tu Così La fiducia La fiducia Te la devi un po' creare Tu Per portare avanti Perché ovviamente È così Una cosa che ho notato Ma io più che altro Sai perché L'avevo tenuto nascosto Perché Ovvio Che se uno è al lavoro Devi lavorare Ovviamente Sì Quello ovviamente Sì Non è che vai fuori Vai al bar O ti siedi fuori A fumare la sigaretta O ti metti a giocare al cellulare Cioè è tutto tempo A sfavore dell'azienda Quindi ti puoi immaginare E tu me lo sai Che girare un video Se lo fai su un lavoro Non so Un cambio pastiglie No? Sì Che normalmente Una pastiglia Non so Ci metti mezz'ora Però puoi stare tranquillo Che se ti metti a fare il video Non è più mezz'ora Diventa anche un'ora Quindi diciamo che Io tra parentesi Era questo il motivo Perché io lo tenevo Nascosto A lui Perché Non voleva che magari Lui mi diceva Vabbè ma tu Invece di stare a lavorare Ti metti a fare i video Perché Poteva anche dirlo Poteva benissimo dirlo Però Lui ha capito Che dietro questo Comunque c'era Comunque Sai come è nata la cosa poi Che alla fine L'ho dovuto dire Perché Che è successo Quindi un bel po' avanti Come ti dicevo prima Quando ho iniziato a fare i video Per le Hyundai Il problema del trainino Il coso in gomma stellare Che si trova Lì dal motorino Quindi dello sterzo elettrico Della Hyundai Ok Praticamente Su quello lì Ho avuto Un bel risultato Per quanto riguarda Diciamo Gli iscritti E una più che altro Le visualizzazioni E andava forte Quel video lì E va tuttora forte Ma più che altro L'ho dovuto dire al capo Sai perché 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 tutti quanti Che mi contattavano Dicevano Io sono andato Alla Hyundai Mi hanno chiesto 3.000 euro Voglio venire da voi A proposito Dopo mi collego a questo Di voglio venire da voi Anzi Ti fermo un attimo Ti fermo un attimo E ti dico Che avevo guardato Le recensioni su Google Ok Dell'officina E Cioè Positivo Vincenzo Un grande meccanico Mi ha sistemato In due minuti Un problema Che altri non trovavano Cioè C'è un bel Vedi che sotto C'è una bella pagina Bella piena Di gente contenta No Non l'ho mai vista Tu dici Ah Capito Se tu Ricerchi Google Maps Ricerchi L'officina Viene fuori Anche Anche Una Una specie Di punteggio Tra virgolette Ok Di recensione Diciamo Tra l'altro Una specie Di recensione Che mettono Ah ho capito Ho capito Non lo sapevo C'è anche scritto Vincenzo Il piccolo meccanico Sì Ah sì Eh sì Comunque E allora Da quella volta lì Tutti quanti Che dicevano Come facciamo Venire da voi Voglio venire da voi Ho visto che sei di Bologna Vengo lì O io sono di Bologna Dimmi dove sei che vieni Allora Sono andato in ufficio Ho detto Fabio Con il mio capo No Ho detto Fabio Ho fatto un casino E lui ho detto Cos'hai combinato Gli ho detto Così 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 E lui mi disse E qual è il problema Vogliono venire Falli venire Ok E lì Ho tirato Un sospiro Di salire E da lì Si sono scatenati Si sono scatenati Eh sì Perché Quelli che riescono Vengono Quelli che non riescono Che magari sono molto lontani Tipo Sicilia Sardegna Ci incominciano a chiedere Se noi Conosciamo qualche meccanico Lì Nella loro zona Zona Quindi E io cosa faccio Perché noi Come azienda Vendiamo Eh Tutti i ricambi E pezzi Per lo sterzo In tutta Italia Quindi a tutti i meccanici Eh Concessionali Per andare a revisionare Le scatole di guida Questo dici Sì Per esempio Esempio Un meccanico Della Sardegna Si chiede una scatola guida Uno sterzo elettrico Ecco Come quello lì Lo è in tutta Italia Infatti noi Tutte le sere Ci abbiamo Un camion Che parte Ah Che va a farciare Esatto Facciamo spedizione Con GLS Quindi da noi Tutte le sere Arriva GLS Fa il carico E poi lo smissa Praticamente Oggi Il meccanico Fa la telefonata E chiede Il giorno dopo Ce l'ha Cioè La spedizione 24 ore Ma sono quelli Rigenerati Voi fate La rigenerazione O Li portate Come funziona Noi abbiamo Revisionato Fatto da noi Se no Abbiamo anche qualcosa Di nuovo Ah ok Ok Sì E quindi Conosciamo Meccanici In tutta Italia Ovviamente Quelli che comprano Da noi Hai capito? Allora Quando È capitato Che non so Quello con la Hyundai Oppure anche con l'Alfa Mi dice Io sono lontano Verrei da te Mi trovo in Sardegna Ma non è che qui in Sardegna Hai un meccanico Che conosci? Allora io vado da Fabio E dico Fabio Per caso Hai un meccanico Tuo cliente Che compra qua in azienda Che sta in Sardegna Allora lui si mette a computer Tra 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 Se C'è questo qua Pinco Pallino Allora io scrivo A chi mi ha scritto Il suo gioco Dico Guarda che In zona Tra 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 Vai che c'è questa officina E fatti fare il lavoro da loro Perché loro magari Diciano Non so dove andare Nessuno lo vuol fare E invece così con noi Sappiamo Perché Che comprano la roba Di sterzo da noi Quindi sappiamo Che quell'officina Ti fai il lavoro Perché È brutto dirlo Ma da una parte Va bene così Non tutte le officine Si mettono a fare Il lavoro dello sterzo Ho capito Sì Ma Dici Per quanto riguarda La No Qualsiasi Ah ok Ci sono alcuni meccanici Che magari Magari Sono bravi Su altri Campi Non so Magari Fanno i cambi automatici Fanno qua Fanno là Poi magari Dite No 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 Per lo sterzo Per l'amor di Dio Li mando via Oppure Preferisco che li Ve li fate voi Cioè può capitare Può capitare Come no Hai capito Capito Ci sta Ci sta Comunque dai Verrà Verrà a trovarti Non appena Le cose qua Si sistemano Verrà a trovarti Dai volentieri Era già in programma Ma poi Una cosa L'altra È saltato Vedremo Dai Sicuramente Arriverà la sorpresa Di venirti a trovare Vediamo un attimo Riprendiamo un attimo Se sono arrivati I messaggi Allora Vediamo Questo Qui Allora Luca Con questo Aneddoto Ho capito Che grande Passione hai E grazie mille Per il tempo Che ci dedichi Grazie a te Luca Per esserci Anche Francesco Grazie di cuore Per l'impegno Che ci dedichi Vincenzo Oggi Grazie a un tuo video Oggi Ho fatto un lavoro Che non credevo mai Di fare Vedi Queste Sono veramente Sottisfazione Sì Guarda ti dirò Anche nel mio Piccolo Perché Il mio canale È piccolo Però Alle volte Mi arrivano Dei messaggi Con scritto Appunto Guarda Con il tuo video Sono riuscito A sistemare Sono riuscito A capire È una gran cosa Veramente E Quello Secondo me Ripaga Di tutte le fatiche Che ci mette lì A registrare Arriva Quel messaggio Che ti allieta Alla giornata Tra virgolette Esatto Allora Ciao Luca Il bello Di persone come te Che sono Che non sono presuntuose Scusate 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 Sono corto Ed è un piacere Vedere i video Grazie Luca Sempre buona serata Vediamo Andiamo avanti Mario Ciao Saluto a tutti Andiamo avanti Marco Un saluto Da Napoli Un saluto Ciao Marco Mio paesano Aldo Grande Vincenzo Unico E raro Ciao Dario Ciao Raga E andiamo avanti Vediamo Tudor Quando facciamo una festa Con gli iscritti Conte ha detto di no Eh esatto Massimo due Cos'è Massimo due Eh Faremo Dai Vedremo Non lo so Boh Tu Tu Cosa dici Vincenzo Io Se tu fai la festa Io ci sono subito Io vengo Ma facciamo In spiagge Ma facciamo in spiagge Eh Andiamo avanti Allora Vediamo Aspetta Vediamo Allora Chiede Come posso iniziare Per aprire un canale Bella domanda Anche questa Vuoi rispondere tu? No Posso rispondere io? Sì certo Come puoi iniziare? Inizia intanto A pubblicare dei video La cosa La cosa principale È portare dei video Alle persone Che possano vedere Quello che sai fare E cosa puoi dare Alle persone Perché alla fine Il canale Almeno quello che penso io E dopo Mi direi tu Vincenzo Cioè È un Alla fine Io sono al servizio Delle persone Cioè nel senso Hai capito? Non morire Eh? Non morire più Alla fine Alla fine Cioè il canale è aperto Per Tra virgolette Non dico È una parola un po' così Per soddisfare Tra virgolette La richiesta delle persone Che comunque lo guardano E vedono I tuoi video E appunto ti chiedono Come hai fatto questa cosa? Perché l'hai fatta? Da lì devi iniziare Secondo me Pubblica Inizia a pubblicare Vedrai che Piano piano Gli iscritti poi salgono E vedrai Non demoralizzarti Mi raccomando Vai sempre avanti Non è vero? Esatto Anche se Anche se Anche se le persone Ti diranno No 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 Se hai un obiettivo Vai avanti Beh soprattutto Tu che sei Ormai Stai andando sempre più in alto Sempre più in alto Però Me lo puoi confermare Anche tu vero? È vero Sempre tu Con un treno Dritto dritto Mai mollare Bisogna Vediamo Andiamo avanti Allora Luca Io conosco Vincenzo Sono di quelle parti Luca Lo conosci? Lo conosci? Sì sì Non l'ho mai visto di persona Però Sì sì È uno che Un ragazzo Che mi segue E mi scrive sempre Sì sì Ok Ok Andiamo avanti Ciao a tutti Ciao Sempre di Hop Chiede Come va l'Audi Ah va bene Va bene Per adesso va bene Quando si rompe La cambiamo Walter Ciao Vincenzo Ciao Walter Opa la Cosa ne pensi? Allora Adesso vediamo un attimino Allora Cosa ne pensi Degli oli motore Aspetta Cosa scrive Fasulli Ah Fasulli Che si trovano in giro Per i riondisti Che alle volte Te li passano a prezzi altissimi Certo che Si fa fatica a capire Più che altro A riconoscere Anche se Su internet Fanno vedere Come fa A riconoscere Una latina Diciamo Contraffatta Da quella originale Però sai Tu comunque Del tuo ricambista Non per niente Si chiama Ricambista di fiducia Quindi Se lui ti dà A me personalmente Non è mai capitato Di andare A vedere la latina E lei Non è lei Originale Non è originale Allora uno Potrà dire Vabbè ma scusa Ma se ti ha dato Una chiavata Ti pigli una chiavata Eh sì Cosa devo fare Perché scusa Eh vabbè Cioè ti può fregare Il tuo ricambista Ma ti può fregare Che ne so Faccio un nome Così a casa Magari lo compri Su Amazon E ti possono fregare Anche lì Tanto oggi La vita è tutta una fregata Tutta una fregatura Quindi Come fai a capire Qual è Certo che Se te la vai a cercare Tipo che vai Nei centri commerciali E allora lì Te la vai a cercare Per esempio qui A Bologna C'è un posto Che si chiama Obilegno Non so se È una catena Che magari Può esserci anche In un'altra città Obilegno 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 Quindi Ti danno Fanno il legno Tagliano il legno Vendono qualcosa di legno Tutto per quanto E fanno anche Non so Vendo qualche cameretta Qualche mezza cucina E hanno qualche Scaffalatura Non so Di utensierie E quant'altro È da un po' di tempo A questa parte Che hanno fatto un angolo Che vendono Qualcosa per le auto Quindi non so La spazzola Teggi La lampadina Gli oli Filtri E sui oli Proprio Va forte Che vende Proprio roba stracciata Tipo della serie Castrol Cioè 4 litri di Castrol Lo paghi a 35 euro 37 euro Allora Io una volta Cosa ho fatto Sapendo che Nel ricambista Un litro d'olio Lo fa pagare 22 euro 25 euro Ok 18 Dipende Una volta Una volta Cosa ho fatto Ho scritto Una mail Alla Castrol E gli ho detto Scusate Ma Mi dite Dov'è la differenza Perché questo posto Deve vendere Una lattina Di 4 litri 35 euro E se vai da ricambista Te la fa pagare Dipende dal tipo Di gradazione 18 20 25 euro La risposta è stata Sentiamo Voi per essere sicuri Dovete comprare Dove c'è scritto Rivenditore ufficiale Castrol Che c'ha la tabella fuori Castrol Ok Quello è autorizzato Castrol Quindi quello È originale Gli altri Gli altri Sono fasuli Quindi sai Che se vai lì È un fasullo Ecco Andiamo avanti Allora Un attimo Allora Questo l'abbiamo visto Ok Questo l'abbiamo passato Vediamo un attimino Allora Francesco Giacquinto Dice Vincenzo Cosa pensi Del classico lavoro Da meccanico Da piccola officina Nel futuro Quando sul mercato Aumentano sempre di più Le auto elettriche Che richiedono Conoscenze E strumenti Allora Innanzitutto Io penso Che è un bel problema Questa Questa elettronica Però Nella mia testa Qualcosa mi dice Che non potrà mai Andare a buon fine Oppure Che le macchine Che abbiamo oggi Non finiranno mai Secondo me Ma Dice che Quelle termiche Diciamo Che conosciamo Non finiranno Ok No È perché Già adesso Ci sono le macchine Storiche Di tanti anni fa Vabbè Sì Quindi Queste macchine Che abbiamo adesso Non finiranno più Cioè Non finiranno mai Meno che Non la demolisci Quindi queste macchine Qua ci saranno sempre Il problema Il problema è che Metteranno piedi Queste macchine Qui Che è già È così Tipo Queste macchine Iplode Elettriche Trick e track E quanto altro E lì È un problema Perché Se vuoi stare a passo Dei fare dei corsi Esatto Se no rimani Se no rimani indietro Però Dico Tanta paura Non ci deve essere Perché tanto Quelle macchine Che abbiamo qua Le avremo ancora Per un bel po' Eh sì Dai Il futuro sarà Quando ci saranno Le macchine volanti Quello è il futuro Quello è il futuro Andiamo avanti Vediamo Allora Giancarlo Caro Vincenzo I tuoi video Mi sono a memoria Anche a me Ok Andiamo avanti Vediamo Allora Buonasera La meccanica Non dimenticare Il video Del pomello Del cambio Ecco Multijet Mille 3 Cercherò Anzi Anzi Vedi ecco Tu che magari Avrai più possibilità Di me Eh Vincenzo Magari Giordano Invito Ad andare A vedere Anche il canale Vincenzo Del piccolo meccanico Che sicuramente Lui lo farà Anche Lo farà anche lui Guarda Dovrei fare Un pomello Di una Goff Sei Di un mio collega Ok Un pomello Completo di cuffia Secondo me Può essere uguale Bisognerebbe vedere Il suo com'è Comunque Come Oh Una roba da ridere Una passeggiata Andiamo avanti Ciao Giordano Ciao Allora Marco Vincenzo Oltre ad essere Un bravissimo meccanico E' anche una bella persona E' molto umile È vero Grazie Grazie Marco Allora Luca Sempre Capita dai Non ti amareggiare No Allora Camillo Vediamo Grande Vincenzo Anche se Il mio modesto parere Su alcuni commenti E' un po' Permaloso Si si è vero Confermo Confermo Fabio Buonasera Buonasera anche a te Salva Racing Ciao Michele Ciao Vincenzo Sono riuscito a connettermi Solo ora Ciao Salva Ciao Carlo Camillo Grande Vincenzo Allora E' sempre lo stesso Stesso Avanti Vado avanti Salva Bravissimo Vincenzo Gran meccanico E di insegnamento Per tutti noi appassionati Avanti Ne sono arrivati parecchi Quindi ci vuole un po' di tempo Giovanni Buonasera ragazzi Siete fantastici Vincenzo Nel corso della tua esperienza Ti è mai capitato Ti sono mai capitati Situazioni difficili E importanti L'importante è aver risolto Alla grande Quel lavoro Forse ho letto io Ma mi sono un po' Ingestitato Sì sì no Però sì sì Allora Di cose importante Sì Guarda Io sono un po' Scorderello Non me ne ricordo Tanto tanto Però Mi è capitato Proprio Ne ho fatto uno ieri Che Praticamente Non ho fatto il video Ho fatto Tagliando Su una Peugeot 207 diesel Circa un mese fa C'è di fatto Che Dopo C'è il giorno dopo Questa ragazza Che è la proprietaria Della macchina Mi ha telefonato Dicendo Vincenzo La macchina Stamattina Non è partita Quindi Io La sera Ho spesso di lavorare E Convinto Che era la batteria Mi sono rigato Sul posto Con un booster Tanto di diagnosi E La macchina Non andava in moto Allora Ho fatto un po' Di mente locale No Praticamente Il giorno prima Che l'ho fatto il tagliando È successo Che Mi era accorto Che Quella lì C'ha la pompetta Per caricare Il filtro del gasolio Praticamente Eh Praticamente Avevo già notato Che Ci ho messo Un'eternità C'è un'aria Ma tantissimo Ma tantissimo Ho dovuto fare Per caricare A sto filtro Alla fine Ce l'ho fatto E sai Quando La macchina È andata in moto Tutto a posto Allora Quando Lei mi ha detto Che la macchina Non era andata in moto E sono andata lì La sera E la macchina Non andava in moto Mi è venuto il dubbio Che poteva essere Un problema Lì nella pompetta Infatti Mi sono messo lì A schiacciare Di nuovo Sta pompetta E vedevo Che A un certo punto Come se Sta pompetta Andasse a vuoto Poi ma dopo Diversi Diversi Tentativi Ma ti parlo Di anche Dieci minuti A pompare A un certo punto Arriva il gasolio Allora Ho detto Sarà un caso Ma gli cambio Il filtro del gasolio Quindi Il giorno dopo L'ho fatto venire in officina E gli ho cambiato Il filtro Gli ho messo un altro Sarà un filtro Che è Difettoso Niente Mi ha detto Guarda E' migliorato Pochissimo Però la mattina Cosa gli faceva Io gli ho detto Così con lei Se vedi che non va in moto Vai lì e pompa Sulla pompetta Perché lei usciva Alle 5 del mattina Sta ragazza Allora Lei mi ha detto Guarda La metti in moto Ma se non la tengo accelerato Lei si spegne E poi dopo Fa fatica Andare in moto Morale della faula Io dopo Mi sono fatto male il dito Tra una cosa e un'altra Quindi è passato Un mesetto E io Con la testa Stavo sempre lì Allora Ho detto Ma io alla fine Cosa gli ho fatto Sta macchina Non gli ho fatto niente Di che io Un tagliando Gli ho fatto Ma perché sta macchina Non deve andare in moto E allora Praticamente Questo è successo Diciamo che Mi sono impuntato Su sta pompetta E il caso è voluto Che lei E' rimasta a piedi Per un'altra cosa Che si è rotto Il motorino d'avviamento Me la portano in officina Per cambiare Il motorino d'avviamento Ho alzato La cassa filtro Perché Io ho detto Ci sarà qualcosa In questa pompetta Che non va Praticamente Quando ho alzato La cassa filtro Sotto Passano i tubi Del gasolio Sul coperto Delle punterie Ed erano tutti bagnati Allora ho detto Ecco qua L'inghippo Dov'è Però io lì Pensavo Di non uscirne più fuori Perché ho detto Scusa ma Io un filtro Gli ho cambiato Perché non devi andare in moto Cosa ti ho fatto Cioè Allora Pensavo Già nella mia testa Di mandarla Da un pompista Anche perché Io tutto sto tempo Di stare dietro Queste macchine Vanno Non va in moto Si spegne Non ce l'ho Allora Ho colto St'occasione qua Anche se Non ti nascondo Che mi ero già comprato Delle valvoline Di non ritorno Perché mi ricordo Quando ero ragazzo Sulle Fiat Ritmo Che avevano un problema Del genere Sul tubo Si montavano Delle valvoline Di non ritorno E si risolveva Il problema Allora ho detto Ma che vada Viste che Si Viste che Ho notato Un'anomalia Nella pompetta Ci monto Dopo la pompetta Una Una di queste Valvoline Di non ritorno Ma più che altro Era una prova E invece Quando ho alzato La cassa filtro Ho trovato Tutto bagnato Di gasolio E lì Ho chiamato Ho chiamato Il ricambista Ha detto Mi sai dire Cosa danno Come ricambio Che danno la pompetta Nuova E mi ha detto No Su queste macchine qua Danno tutta la tubazione Nuova Quindi È compresa La pompetta Che scende tu Sulla pompa Che va sul filtro Che va sui tenitori È proprio Una cosa Compresa Sì 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 E L'ho fatto Proprio ieri No aspetta L'ho messo in moto Giovedì Mercoledì Scusa L'ho messo in moto Mercoledì sera Poi Poi Sono andata a casa Il giovedì mattina Sono arrivato in officina Quindi è passata una notte Ho fatto l'avviamento E è andato il primo colpo Quindi Me la sono tenuto dentro Anche un altro giorno Quindi venerdì Mattina Se partiva bene E così Venerdì sera La ragazza È venuta a prendersa E È contenta Perché È in quel momento lì Gli ho fatto anche Il fit Ecco Lì volevo fare il video Ma alla fine Non ho avuto tempo Perché stasettimana Siamo stati Incasinati Poi tra l'altro Ho dovuto fare anche un video Delle calotte del golf Quindi Ero È È Ho fatto il video del golf Poi ho fatto il video Della Della Giunta omocinetica Del Duster E poi ho fatto anche un video Di una cuffia Di una classe A E quello lì Non lo so se lo metterò in rete Perché Perché forse di no Non lo so E quindi Su questa Peugeot Avrei voluto fare Il Perché me l'hanno chiesto Gli ho cambiato L'olio nel cambio Perché È È Lì Era da fare Perché praticamente Da sotto C'è il tappo di scarico E Il tappo di carico Non c'è Laterale Ma è sopra Praticamente Si vede Viste che io Ho smontato Il motore D'avviamento Ho dovuto smontare Batterie Porta batterie Per arrivare Al terzo bullore Del motore D'avviamento E in quell'occasione Ho visto che proprio Sul cambio In direzione Sotto il portabatterie C'è un tappino In plastica Che fa anche Da sfiato Tu lo alzi Lo stacchi E da lì Fai il riempimento Del cambio Che ce ne vanno Due litri E dieci E lì Ci stava bene Il video Di fare la sostituzione Dell'olio Ma non ce l'ho fatta Quindi praticamente La risposta Del nostro amico È che Praticamente Me l'ho trovato perso Nei casini Appunto perché Per un filtro Dell'olio Sta macchina Cioè Per un tagliando Sta macchina Non deve andare A più moto La mattina E allora Alla fine Mi vedevo perso E invece Ho risolto Perché ho fatto La scoperta Di questi tubi Ecco Ok Aspetta Vediamo un attimo Sono arrivati Altri messaggi Vediamo Allora Saverio Aspetta Se ritorno indietro Allora Ok Questo è quello di prima Ok Saverio Evviva la condivisione Alberto Un saluto Da Carpi Grazie per quello che fai Per noi Grazie a te Alberto Andiamo avanti Marco Ciao Enzo Sei grande Mi devi sempre spiegare Dove hai messo L'attrezzo Della pulizia Quando hai fatto La distribuzione Della Ford C-Max Aspetta Adesso Adesso glielo faccio vedere Sai perché C'è quella foto Che mi hai mandato Tu della Ford Adesso gliela faccio vedere Qual è Perché io a lui Gli ho già Gli ho già Va detto Dove l'ho messo Ho smontato Il motorino D'avviamento E l'ho messo lì Adesso glielo faccio vedere Dove l'abbiamo messo Vediamo se si vede Ok Eccolo là La figura numero due Si vede Si vede Lì a posto di quei Eh a posto di quei buoni Lì C'è il motorino D'avviamento Togli il motorino D'avviamento E metti Sta piastra Con stitri e bulloni Praticamente La piastra Va proprio Sulla corona dentata Siamo Del volano Ok Andiamo Avanti Allora Vediamo poi Oh Tudor Tudor Allora Come iniziare un canale Tanta pazienza Pubblicare costantemente Possibilmente Avere dei giorni precisi Per la pubblicazione Avere una buona attrezzatura E una buona qualità Video Secondo me Ottimo Tudor A proposito Posso farti la sorpresa Forse Chi ha seguito su Facebook E Instagram L'avrà vista Aspetta che ti faccio vedere È proprio arrivata Fresca fresca Aspetta guarda Ah io intanto mangio La cioccolata Guarda qui Cosa ti faccio vedere No Cos'è È la 9 8 La 9 La 9 La 9 È il media mode Così Ci spera di utilizzarla al meglio Bellissima Bellissima Speriamo bene Dai alla fine Ovviamente dovrei imparare un po' A utilizzarla Perché Anch'io volevo prendere Cos'è il microfono sopra Questo è il media mode Aspetta Magari se riesco Ti faccio anche vedere Un attimo Quello laterale Cos'è il microfono E se questo qua Ti faccio vedere Guarda Aspetta Vediamoci Staccarlo Così ti faccio vedere Aspetta Così te la faccio vedere A parte che si accende Anche Con Il comando vocale Bellissimo Vediamo Aspetta Eccola qua Vediamoci Riesco A toglierla Ok Questa Praticamente Tu le agganci Sopra Aspetta Che Vedo Se riesco A capire Come fare Ad aprirla Perché l'avevo fatto Prima Che era da qua Ok Si apre così E qua Praticamente Viene fuori In questa maniera Ah Ottimo Si 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 apre Aspetta perché Non voglio far danni Ah no Aspetta perché c'è questo Aspetta Così Eccola qua Ok Così una volta che la apri Questa si aggancia Poi dentro Vedi Al suo Type C Ah ok E si aggancia dentro Praticamente Ottimo Eh c'è anche Tu hai Mi sembra mi dicevi Avrei la 8 Se non sbaglio Sì C'è anche per la 8 Questa Sì Infatti l'avevo visto E proveremo a vedere Come funziona Dai Farai dei gran video Speriamo Speriamo bene Vediamo Allora Andiamo avanti Allora Vediamo Saverio Vince Io il militare Sono stato imbarcato Su una fregata Però Luca Allora Vediamo Il preparatore Di Salerno Vediamo Poi Savio Savio Complimenti Vincenzo Non è da tutti Riuscire a fare Quasi 26.000 Iscritti In 4 anni Ti dice Eh sì Sono tanti Sono tanti Ah ho visto che Da quando abbiamo festeggiato I 20.000 Praticamente Due mesi fa Mamma mia Quindi sono 6.000 6.000 iscritti In due mesi Mamma mia Vediamo Poi Luca Ancora Allora Riguardo il messaggio Di prima Conosco il preparatore Di Salerno Vincenzo Ancora Non ho avuto Il modo Di conoscerlo Di persona Ma al più presto Ci dovrò andare Ok Quindi verrà a trovarti Poi vediamo Un attimo Antonio Fino a quando Ci sarà Il petrolio Si andrà avanti Dice Ecco Sì È la È la risposta Delle macchine Di adesso Andiamo avanti Sempre Antonio Non sono un amante Dell'elettrico E ibrido No Perché Perché dobbiamo sentire I rumori Esatto Di scarichi Liberi Eh sì Ma a proposito Di questo Poi Di scarichi E quant'altro Di rumori Vedrai Ho qualche sorpresina Anch'io Ti farò vedere Beh Dopo tu Ovviamente Mi segui Vedrai Ci sarà una sorpresina Adesso piano piano Sto cercando Di completare tutto Vedremo Di portare qualcosa Che faccia rumore Nel canale Vedremo Poi vediamo Salva Sarebbe bello Passare una giornata Insieme ragazzi Visto che abbiamo Un canale E scambiare Un po' Di idee Oltre che Cazzeggiare Un po' Salva Dice Va bene Adesso il problema Ma sai cos'è Sto coronavirus Che Purtroppo Speriamo Che passi Ci vorrà Ancora un po' Di tempo Mi sa Allora Avanti Vediamo Un attimino Allora Claudio Ciao Vincenzo E la meccanica Cosa ne pensate Del motore Citroen Tre cilindri 1000 A benzina Allora Io ho una bella Una bella risposta Che io la do Sempre a tutti quanti Secondo me Funziona Allora E' come E' come Quando mi dicono Vincenzo Ma devo prendere Una macchina a benzina O diesel E che ne so io Dipende Che lavoro fai Dipende Che tragitto fai Dipende Da tante cose Normalmente In base ai chilometri Che uno fa Poi va a decidere Certo Oppure L'altra domanda E Vincenzo Ma Ma Come lo vedi Il motore Della Fiat Come lo vedi Il motore Di quella lì Come lo vedi Questa macchina qua Come la vedi Quella cosa là Alla fine Io dico Scusate Innanzitutto Le macchine Sono Come le donne Uno potrà dire Ma Vincenzo E' ripetitivo Però almeno Io così Me ne esco fuori Ho già dato la risposta Allora Le macchine Sono come le donne E' un prenderci Poi c'è quello Che tratta male La moglie E la moglie Gli sta sempre dietro Poi c'è quello Che invece La moglie Gli fa fiori Soldi Pellicce E quella là Invece E lo manda A quel paese Quindi La macchina E' così La macchina Più gli state dietro E quella Più si rompe Se non gli fate niente Quindi alla fine Voglio dire La macchina Imbroccarci Imbroccare La macchina E' un prenderci Ma Può capitare Che C'è uno Che c'è la Fiat Una Fiat Croma Prendiamo una macchina A casa Che con lì Ha fatto 400.000 km 500.000 Quindi per lui La Croma E' una gran macchina E' un gran ferro E quindi Poi per esempio Tu Ne conosci un altro Che ha la stessa Croma E dice Io Mamma mia A 20.000 km Aveva la macchina nuova Sono rimaste a piedi Mai più Mi si è rotto questo Mi si è rotto quello Quindi cosa vuol dire? Che è un prenderci Ma uno è stato fortunato E uno è stato meno fortunato Quindi con questo voglio dire Se le macchine sono in commercio Vuol dire che Sono state collaudate Sono state viste Straviste Se sono in commercio Vuol dire che sono macchine Che devono stare in commercio Quindi E' una super macchina I due cilindri Come la super macchina I sei cilindri I cinque cilindri I dieci cilindri Sono tutte macchine affidabili Sono tutte macchine che camminano Quindi per me Una macchina Vale l'altra Ma lui vuol sapere Il motore Citroen Io dico che è una bomba E' un'ottima macchina Anche se magari Non l'ho neanche mai vista Perché secondo me Sono tutti affidabili Cioè Non so se rendo l'idea Se uno E' mai possibile Che uno potrà fare mai Una casa Un motore Che non va Cioè Non lo so Esiste un motore Che non va Non lo so O con una televisione Che tu La compri oggi E dopo una settimana Si rompe Non lo so Per me Possono essere Dei difetti Magari Risaputi Quello che si Magari Tutti i difetti Ma anche noi Abbiamo i difetti Cosa c'entra Si si no Beh Come il discorso Che ti ho detto prima Come il discorso Che ti ho detto prima Che una Una croma Che ha fatto 400.000 km E non ha Mega Dici ma Dici ma come Quello Oppure la Fiat Perché c'hanno L'EPS No Lo sterzo elettrico Che è quel risaputo Che si rompono A tutte Eppure C'è quella persona Due persone Tre Cinque persone Che dice Io Ho comprato Una punto nuova Ho fatto un miliardo Un milione Di Un milione Di chilometri Mai fatto l'EPS Ma quello Voglio dire È una cosa risaputa È un difetto Di quelle macchie Oh A quello Non gliel'ha mai fatto E allora Sì sì no E allora È un break Quindi Voi che volete Fare le domande Fate Le domande Come va Quello Il motore Perfetto Andiamo avanti C'è qui Guarda qua Chi c'è Fabio Bianco Ecco Mi sentite Riccardo Sì sì ma Hanno fatto Hanno fatto Una carrellata Tra lui e Tudor Guarda lì Quanto hanno scritto Guarda Eh sì Ruffiano Ti voglio bene Guarda Guarda Sei pazzo Siete bellissimi Siete bellissimi Allora Vediamo un attimo Qui Gerardo Allora Ciao ragazzi Siete grandi Vincenzo Ti segue Anche Su Tele Ti seguo forse Ti seguo Anche su Tele Sì Spero di riuscire A seguirti Anche a te Da domani Grazie Eh ma Ragazzi Siete tutti Qui ma Vi dovete anche Iscrivere Al canale Di Michele Eh Esatto Ma Guarda Ti dirò Io spero Che piaccia Questo Questo piccolo Esperimento Che sto facendo Di fare Queste live Perché È una cosa A mio avviso Abbastanza Cioè È interessante Perché È giusto Anche Capire Quello Che c'è Dietro Poi A un personaggio Cioè C'è dietro Anche un canale Non solo Magari anche Il mio Ovviamente Poi Perché magari A me piace Mettere qualche Tutorial E fare Diciamo Far mandare avanti Diciamo Il canale Ma è bello Anche riuscire A condividere Con altre persone Che hanno La possibilità Appunto Di avere O altri canali O altre esperienze Ecco Come quella Che c'è stata La settimana Scorsa Per dire Per avere Per portare Nel canale Un bagaglio Diciamo In più Da dare Ai miei scritti Ma questo Poi Ecco Quella Quella è La mia idea Ecco Per questo Ho iniziato A fare Questo tipo Di scritto Alla fine Anzi Ti ringrazio Ti ringrazio Che hai accettato È un piacere È un piacere È un piacere Allora Andiamo avanti Vediamo un attimino Allora Vi mandati O no Assessini Sì Ti salutiamo Ti salutiamo Ma c'è Ma c'è anche Fabio Non l'avevo Visto Guarda qua Andiamo avanti Aspetta Che Vediamo Se non Allora Sopra Mamma mia Quanti Allora Aspetta Perché io Non sono abituato A me arrivano Io non sono come te Vincenzo Che mi arrivano 3000 messaggi Per me Già Così Io vado In confusione Mi devo un po' Abituare Tu a proposito Ecco Questa è una bella domanda Ma quando ti arrivano Tutta la sfizia Di messaggi Come fai Come fai Perché io mi metto Nei due panni Anche io ogni tanto Magari ti scrivo Magari Lo vedi O magari non lo vedi O passi avanti Ma so che magari Con la scuola D'occhio Lo vedi Però tu Come fai Di solito Quando arrivano Una cascata Di messaggi A riuscire A A contentare Tra virgolette Tutti Sto dalla mattina Alla sera Con il telefono in mano Lo carico 400 volte al giorno E sto E sto Tutti i giorni A rispondere Anche mentre Lavoro E perciò La sera Sto fino a tardi Perché poi Il bello Sa qual è Che tu forse Non ci crederai Ma Se ci arrivi Anche tu Vedrai che Non dirai che Mi stemmerai Ma quasi Praticamente Quando mi arrivano I messaggi Sul cellulare Che io li vado A vedere Quando faccio C'è sotto C'è scritto Rispondi Ok Quindi se una persona Mi fa una domanda La prima volta Ok Su quel video Faccio rispondi Faccio rispondi E io gli rispondo Sotto tranquillamente Ma se quella persona Lì Mi rifà Una seconda domanda Sotto Sotto lo stesso video Ok Qui Ok Mi ritorna Un messaggio Nel cellulare Vieni nella mail Ok Perché arrivano Via mail E c'è scritto Sotto Rispondi Ma quando faccio Rispondi Non mi porta Nel messaggio Ma mi porta Nel video Ah ok Succede anche a me Però questo Allora Devo andare A vedere Tutti i messaggi E a beccare Quello lì Che lui Mi ha risposto Ho capito Cioè che Mi ha fatto La seconda domanda Quindi puoi capire Che col cellulare È impossibile E Sta cosa qua L'avevo risolta Da quando Ho scaricato L'applicazione YouTube Studio Ok Si chiama proprio YouTube Studio E avevo risolto È durata poco È durata poco Praticamente Neanche con quella Funziona E funziona Soltanto con il computer Ma tu puoi immaginare Che io durante il giorno Non posso Stare al computer Con il cellulare Ce l'hai in tasca Apri e rispondi Quindi Tutti qui i messaggi Che mi scrivono Due volte Me li conservo La sera Quando arrivo A casa Che li rispondi Dal computer Ho capito Casino È un casino È un casino È un casino Immagino È sempre Anche perché Devo rispondere Perché C'è stato qualcuno Che È da un po' Che non è più presente Ma non faccio nome Ci avevo discusso Perché Lui Era uno di quelli Che mi aveva detto Vincenzo Tu non accetti Le critiche E io gli ho detto Guarda Io a te Ti voglio bene Le critiche Le accetto Da tutti Però Tu L'hai detto Con un tono Un po' diverso Però Ho detto Facciamo finta di niente Non è successo niente E questa persona Mi ha detto Mi ha detto No perché Io non voglio Che tu Ti esalti E dopo Va a finire Che non risponde Neanche più i messaggi Gli ho detto Guarda che Secondo me Non succederà così Io preferisco fare Fino alle 4 del mattino E rispondere Tutti i messaggi Ho capito Ed è quello Che sta capitando Che io Faccio tardi A rispondere Però con la persona lì Non c'è più Perché è da un bel po' Che non mi commenta più Quindi Si presume Che non mi segue più Ho capito Andiamo avanti Allora C'è sempre Fabio Che qui Aspetta Uffa uffa Poi Mauro Vincenzo Il mio idolo Seguo sempre Bravissimo Avanti Fabio Bianco Fottitene 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 No Non l'hai pronunciato bene Se no Dopo Eh no Tu devi pronunciare Proprio come c'è scritto Fottitene 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 Ah ok Allora Fabio Fottitini Va bene Bravo Bravissimo Devo fare un corso Devo fare un corso Allora Vediamo poi C'è Tudor Sei pazzo Fabietto Si 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 stanno scrivendo Fattitene Ah ok Tudor Un mito Vediamo Andiamo sotto No Tu sei un mito Piano Ti voglio bene A proposito Io Non so se Forse Fabio Non ha visto Prima Quando ti avevo Fatto la domanda Del compressore Vi volevo appunto Visto che mi state Seguendo adesso Vi ringrazio Tutte e due Per il discorso Che avete fatto Della sorpresa Vincenzo Da parte mia Voglio ringraziarvi E questo Perché magari Non l'ha visto prima Sai Vincenzo Allora Luca Scusatemi Grande Fabio Lo Bianco Ciao Vediamo Ciao Luca Ah si stanno scrivendo Si stanno scrivendo Si 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 Vediamo Andiamo sotto Vediamo Allora Gerardo Si La mia croma È proprio Come la mia moglie Io La adoro Anche lei Mi ha fatto Speriamo Mi faccia fare Anche a me Quattrocentomila chilometri Si si Le fa Le fa Ma a proposito Ecco Voglio Voglio chiederti Questo Visto che ho visto Quattrocentomila chilometri Voglio chiederti La macchina Che hai visto Con più chilometri Mercedes Mercedes Quanti Quanti Ottocentomila Che chilometri Ma era Era un tassista Mamma mia Andiamo avanti Allora Sempre Fabio Le macchine Per sempre Tutto così Andiamo avanti Allora Aspetta Avanti Ciao Fabio Ciao Francesco Luca Esatto Tudor Io mi sono iscritto Quando ho accettato Di partecipare Al tuo regalo Ah Dice Dice di me Ok Ma Se adesso Probabilmente Forse O Tudor E anche Fabio Quando hanno messo Questa idea Quindi Adesso io non so Se ero uno tra i primi Non lo so Però ho detto subito Sì Cioè non ce l'ho neanche Pensato due volte Ho detto Vai Sì va bene Per me va bene Poi fatemi sapere voi Io sono qui Quello Non so Forse lo diranno Poi dopo Magari forse Allora Aspetta Vediamo Allora Saverio Le live sono stupende Beh Sì Dai Sì perché Comunque si riesce A riuscire a conoscere Un po' di più le persone A farsi quattro caratteri insieme E anche Ad avvicinare Più l'iscritto Allo youtuber Quello Insolta Gerardo Appena iscritto Se ha telegram Ok Perché gli altri social Non li uso Non so se ho Ok Avanti Allora Ciao ragazzi Ciao Marco Fabio Da nord al sud Senza confini Vinti tutti Come se ci conoscessimo Da sempre Scusami Lo trovo meraviglioso Sì Veramente Ha ragione Ha ragione Guarda Io posso dirti Con YouTube E questo Questa Questa piattaforma qua Sto iniziando a conoscere Veramente Tante persone Da tanti posti Tutti diversi E tutti Hanno Qualcosa Da comunque Da poter condividere È veramente bello Questa cosa qua Oh comunque c'è una domanda per te L'ho già letta Ma adesso ci arrivo Allora quindi Tudor dice Belle parole Oh adesso Ah no Questo Vediamo Allora RT La meccanica Salva racing Piccolo meccanico Savio E il calman del piave Sono tutti grandi canali Sottovalutati da tanti Purtroppo Bella live Comunque Grazie Guarda Ti ringrazio E penso che Di parlare anche A nome degli altri canali Ti ringrazieranno sicuramente Veramente Per ricevere questi commenti Fa solo che piacere Vero Vero Vincenzo Sì Allora Andiamo avanti Aspetta perché Devo fare Allora Qui vediamo Un attimino Allora Andiamo avanti Qui c'è una Che emette la Photo Allora Tutti Timi Allora Un po' la metterà Sbaglio io a dirlo Eh vabbè dai Imparerò Allora Marco Raga Buonasera Ma È un programma Dove si vincono Euri Tenetemi presente Appena Appena lo faremo Ti chiamiamo Ah ok Magari aiutami anche tu Perché sai Io sono un po' Non so se vedi gli occhi Sono rossi Sono un po' Questa è per me Questa è per me Savio a scrivere Vai Ce la vedi Vai pure Allora Vincenzo Puoi rispondere Anche dall'app Di youtube Nella parte alta Dove c'è la campanellina Ovvero Le notifiche Clicchi E lì trovi i messaggi Dei tuoi iscritti Dalla mail Invece di aprire i video Tu dici direttamente Dall'app di youtube Nella parte alta Dove c'è la campanellina Eh cosa c'è Ah beh Se faccio Ah beh Sì Sì Anche questo Lo sapevo Sì sì C'è C'è Ah ok Andiamo avanti Allora Totò Mi chiede Scusa qui c'è qualcosa Per Fabio Lobianco No è per Fabio Lobianco Ah ok Avete ne visti il canale di sta ragazza Io sì Eh io sì Ci sono passato Perché vuoi o non vuoi Ci passi Perché Lei fa Io la seguo a lei Perché lei fa Tantissime cose Per esempio Quando ho preso la stampante 3D No? Lì mi sono trovato Un suo tutorial Che feceva vedere Come funzionava la stampante 3D Poi dopo Mi la sono beccata Poi dopo ho comprato La Insta360 Che fa i video a 360 gradi E mi sono beccato lei Allora Ho visto che lei Fa molti video a 360 gradi Proprio Ne vorrei fare una anch'io Perché io ce l'ho L'ho presa a posto Ma non ho mai fatto un video Soltanto che lei Ma sempre vestita Non so se si può dire Vestita o spogliata Perché secondo me È più spogliata Eh sì Vabbè Io tra virgolette La conosco Nel senso perché Beh siccome sai Che io sono un po' appassionato Della Thailandia Non so se Va bene Non so Forse hai visto magari qualche No non l'hai visto No Vai a vedertelo Vai a vedertelo È un canale che si chiama Intanto in Thailandia Del mio amico Stefano Vai a vedertelo Che ti aggiorna sempre Su tutto quello che succede Nella Thailandia Eh a me piace Perché sono andato Un po' di volte Un po' di volte E l'ho girata un po' così Insomma E l'ho conosciuta Questa ragazza Appunto perché Conosciuta Ovviamente I suoi video Perché Era andata a fare un tour Di Bangkok E allora lei Con la lista 360 Girava lui per Bangkok E da lì poi Ho visto la tipa Tra virgolette La ragazza Insomma Ecco così L'ho conosciuta Vediamo un po' Allora poi Allora Totò Mi chiede Michele Di cosa ti occupi Nella vita Di cosa mi occupi Bella domanda Diciamo che Allora Io sono qua Nel ramo Dell'automotivo Ecco Quindi Sempre Nel ramo Della Della meccanica Delle auto Di mezzi a motore Ecco Diciamo così Bene Andiamo avanti Allora Luca Sono iscritto A molti canali Inerenti al mondo Dei motori Ma il piccolo meccanico Fa sempre le scarpe A tutti L'unico canale Dove si spiega Passo passo Ogni singola Riparazione E si impara qualcosa Grazie Luca È vero Salva Concorda con Luca Eccolo qua Concorda Francesco Allora Ciao Vincenzo Sei come un fratello Non credevo Aspetta Scusami Perché sono Un po' Non credevo Che i tuoi video Mi aiutassero Così tanto Passo ora Guardarli Ogni lavoro Che faccio Sei con me Virtual Virtualmente Un grande bacio Grazie di cuore Francesco Grazie Eh si Vincenzo Grazie che mi aiuti Perché a una certa ora Ho gli occhi Che Mi cadono Allora Marco dice Vincenzo Ma per scriverli su Telegram Bisogna avere il tuo numero No C'è un link Scriverti Allora Eh bravo Spiega pure questa cosa qua Che è importante Allora Per entrare Dentro Al gruppo Telegram Dovete Andare Nel video Dove C'è un video Che ho Ho detto Che ho aperto Un canale Telegram Quindi vedrete Proprio il logo Telegram Voi entrate In quel video E nelle descrizioni Del video Sotto Troverete Il link Per accedere Praticamente Una volta Che voi Cliccate sul link Entrate Direttamente Dentro Telegram Senza Senza Approvazione Ecco Entrate E basta Ovviamente Andatevi a leggere Le regole Del gruppo Ma Una cosa Proprio fondamentale Che ve la dico Qua adesso Che ci sono Degli orari Da rispettare Ma a parte Che il gruppo Si chiude da solo Quindi Il gruppo Apre le nove Del mattino E chiude Alle ventuno Di sera E la domenica È chiuso Riposo Esatto Però Bisogna leggere Le regole Ecco Le regole Del gruppo Bene Poi Fabio Fabio Dice Non siete stanchi Forza Tutti a letto Non dimenticate Di fare La preghierina Va bene Faremo Dai La preghierina Grandissimi Utente 07 Grandissimi Un abbraccio Poi Tudor Michele Condivide in parte La tua idea Del non Far vedere Il volto Perché è meno importante Però ti consiglio Di farlo Secondo me È importante Guarda Vincenzo Che Anche la simpatia Fa visualizzazioni Ha ragione Ha ragione Però Come spiegavo Nella Nella prima live Che avevo fatto Nella prima in assoluto Di presentazione Di mille iscritti Appunto Avevo detto Che avevo bisogno Di una minima conferma Per poter Diciamo Fare quello step In più Era una cosa mia Che cercavo Una piccola conferma Per poter poi Aprirmi Tra virgolette Un po' di più Capisci Capisco benissimo Tudor Ovviamente Poi le persone Si affezionano Ti vedono in faccia E ti riconoscono Fabio dice Bravo Tudor Tudor Mi fa Ok Salva Grande Fabio Lo bianco Mi fai morire Da arrivere Da arrivere L'ho messo io Tutti a letto Adesso Si è fatta anche una certa E mi sa che Adesso chiudiamo Sai perché Vincenzo Non voglio Troppo No Più che altro Più che altro Che ci stanno seguendo E anche Magari Eventualmente Se avrei piacere Magari ci sarà modo Di fare magari Qualcos'altro Più avanti Oppure Qualcos'altro Ci sarà Dai verrà sempre fuori Domenico dice Buonanotte Marco Perfetto Perfetto Grazie Vediamo Marco Vincenzo Il piccolo Meccanico È grande Perché nei video Fa vedere I particolari E poi Il suo Il suo modo Lui però Dice che sono Ripetitivo Giustamente Ma è Ma è giusto così Cioè lui Non è che mi fa Mi fa una critica Oppure mi dice Mi dice giustamente Che sono bravo Perché sono ripetitivo Perché giustamente Io mi metto Nella testa delle persone Che magari dico Se non hanno capito Quella prima Glielo rispiegno Un'altra volta No perché a volte Tu forse Non ci chiederai Ma nonostante Sono ripetitivo Mi fanno la domanda Sotto nel Il video Eh perché Se vedete Non lo guardano Tutto Vabbè Perciò io a volte Dico Io lo spiego Due volte A parte che Sono proprio Fatto così Io sono un po' Ripetitivo Nelle cose No no Ma è bene Anche perché Così Ribadirlo Ci sta Sì Allora Poi Saverio Un saluto a tutti Buone festività Anche a te Saverio Che Fabio Non ti dimenticare Di lavare Spidenti Va bene Ok Buonanotte ragazzi Alla prossima Siete grandi Un abbraccio Buonanotte Ragazzi Buonanotte Dal Trentino Io vi saluto Spero di presto Alla prossima live Siete fortissimi Grazie mille Ottima Abbiamo visto La Durs Che ha detto Come dobbiamo fare Ah ok Così Così Eh sì Buonanotte Buonanotte E buon Natale Grazie anche a te Lorenzo A tre tardi a tutti Marco Michele Mi sono iscritto Anche al tuo canale Grazie mille Notte E adesso chiudiamo Anche noi Perché stiamo andando Ormai Faccio gli ultimi L'ultimi messaggi Poi ci salutiamo Luca Una cosa Una cosa Anche ottima Di Vincenzo Spiega pure i trucchi Del mestiere Che molto Sono curiosi Questa veramente È una cosa Che ti avevo detto Anche in privato Ti ricordi Cosa che avevo detto Io in privato Ti ho detto Tanti Tante Tante persone Cosa fanno Soprattutto Tanti meccanici Cosa che a me Non piace Si tengono le cose Per loro Cioè Si tengono Tutti questi segretini Queste cose Queste Loro Ovviamente Che l'hanno imparato Anche loro E dicono Perché devo insegnarlo A un altro Invece Secondo me È la cosa più sbagliata Del mondo Perché anche l'altro Poi un domani Un domani Ti potrà insegnare Qualcosa a te Esatto Se tu Blocchi tutto Cioè se tu Ti tieni Le tue cose Non crescerai mai Non crescerai mai Bisogna condividere Se condividi Impari La tua mente Si apre E condividi E cerchi anche Di capire Anche altre cose Almeno io Quello che ho imparato Anche a me Nel mio percorso Anche da meccanico Che ho fatto In passato È successo Questa cosa qua Anche a te sicuramente Ti troviamo Questo tipo di persone Però sai Riuscire Ad avere Le persone intorno a te Che riescono A comunicarti A dirti Anche quelle piccole cose Magari per aiutarti Tu sarai il primo Che poi Se succede Qualche cosa Lui aiuterai Perché ti viene spontaneo Esatto Giusto Concordo Ecco Concordo Marco Sei forte Vincenzo Fabio Dai che poi Digerisco male Faccio gli incubi È matto Fabio È matto Fabio Bisogna che Ti conosco Devo conoscerti meglio Perché Sei un po' Pazzerello Tudor Buonanotte ragazzi Bravissimi Spero che ci sanno Altre live Sono belle Ci sentiamo Più Vicini a voi Ci sentiamo Più vicini Ah ok Ci siete più vicini Bene bene Questo è quello Che mi piace Sentire Veramente Che Avere la vicinanza Degli iscritti Questo sì Veramente Adesso ti saluto Vincenzo Gli ultimi Allora Ciao a tutti E Fabio Hai ragione Fabio Buonanotte Bene Buonanotte Con Fabio Chiudiamo i messaggi Così va Ciao a tutti Tac Chiudiamo tutto Ok E niente Allora dai Io spero Vincenzo Che questa chiacchierata Abbiamo fatto le due ore Mamma mia Che questa bella chiacchierata Ti sia piaciuta Spero Ti devo ringraziare Invece Ringrazio te Per l'invito Per le domande Che mi hai fatto Ringrazio Tutti Quanti Questa è come casa tua Tu quando vuoi bussa E questa è casa tua Quindi vai tranquillo Quindi Oltre a ringraziare a te Ringrazio Anche tutti quanti loro Che sono venuti Anche sul tuo canale Ringrazio Ringrazio i tuoi iscritti Che già c'erano Ringrazio tutti quanti voi Che ci state vicino Vi voglio bene Tutti quanti Vi lovo E teniamo duro E ovviamente Ovviamente ci vediamo Nei prossimi video E nella prossima live Va bene Dai Vi ricordo ragazzi Se vedete Di andare Ad iscrivervi Ad iscrivervi Scusatemi Iscrivervi al canale Di Vincenzo Mi raccomando Se non l'avete fatto Andate Vi iscrivete E andate a vedere Che canale è Tanta roba Mi raccomando Bene ragazzi Abbiamo detto tutto Per questa live Possiamo concluderla qui E niente Dai Ti ringrazio E ci vediamo Noi ci vediamo Comunque Ci sentiamo sempre Ma ci vediamo E magari Una prossima live Ok Buonanotte a tutti Buonanotte Ciao a tutti Ciao a te Vincenzo Ciao Ciao Michele Ciao ciao Ciao